L'industria 4.0 non è un oggetto identificato, ma è una cosa in continua evoluzione. È un insieme di tecnologie che continuano a evolvere. Ogni giorno ci sono start-up e innovazioni su queste tecnologie. E poi c'è un insieme di casi di uso di queste tecnologie in tutti i segmenti della catena del valore. Anche questi casi di uso ogni giorno crescono, nascono, se ne inventano di nuovi, eccetera. Quindi l'articolazione dell'industria 4.0 stessa impone un supporto esterno, cioè di qualcuno che possa seguire questa innovazione. Quindi la prima regola di una roadmap per l'industria 4.0 è quella di farsi supportare per capire cosa fanno gli altri nel proprio settore, perché ogni settore è diverso, qual è il grado di maturità dell'azienda in questo percorso, perché ovviamente dal grado di maturità dipendono le prossime azioni, e poi quali possono essere i costi benefici delle prime attività da fare per implementare qualcuno di questi elementi che sono cosiddetti prioritari in funzione della strategia dell'azienda. La strategia dell'azienda può essere una strategia di mercato, una strategia di produzione, una strategia di supplicene logistica in funzione di quello che è la priorità dell'azienda, e per ciascuna di queste aree i consulenti possono indicare quali sono i primi passi da svolgere. Ad esempio all'interno dell'industria tipicamente i primi passi da svolgere sono quelli di applicare sensori il più possibile sparsi per raccogliere informazioni e dati che possono poi aiutare a monitorare meglio la qualità della produzione e a predire meglio quali possono essere i possibili guasti.